Come un sipario che si apre quando tutti gli altri sono calati, al Teatro San Carlo sono stati conferiti i premi delle maschere del Teatro Italiano, il riconoscimento per le eccellenze artistiche della scorsa stagione. La cerimonia, trasmessa anche da Raiuno e condotta da Tullio Solenghi, è stata l'atto finale di un percorso in cui una giuria di esperti ha individuato i finalisti per le 12 categorie in gara e successivamente, con il voto segreto di oltre 500 artisti e professionisti del teatro, sono stati designati i vincitori premiati ieri sera davanti ad un pubblico di appassionati ed addetti ai lavori. Fra i riconoscimenti assegnati, The Coast of Utopia, per la regia di Marco Tullio Giordana, ha vinto sia come miglior spettacolo della stagione sia per i migliori costumi, mentre per la regia il premio è andato ad Elio De Capitani e Ferdinando Bruni per The History Boys. Miglior attore Luigi Giro Cascio per Diceria dell'untore, spettacolo che ha vinto anche come novità italiana. Un tram che si chiama Desiderio è stato premiato invece per entrambe le attrici, Laura Marinoni ed Elisabetta Valgoi. Come migliore attore non protagonista, Ugo Maria Morosi vince con l'opera da tre soldi, presentata nella quarta edizione del Napoli Teatro Festival Italia, mentre il miglior attore emergente è stato Filippo Nigro con Occidente Solitario. Premiati anche lo scenografo Alessandro Camera per Tutto per Bene è Germano Mazzocchetti, autore delle musiche per gli allegri comari di Windsor. Un premio speciale alla memoria di Graziella Leonardo di Buontempo è stato assegnato a Mario De Simoni, direttore generale del Palexpo che raccoglie il Palazzo delle Esposizioni e le Scuderie del Quirinale, mentre un tributo particolarmente sentito dal pubblico è toccato ad Anna Maria Guarnieri, premiata per il miglior monologo in Eleonora ultima notte a Pittsburgh e da Maurizio Scaparro che ha ritirato il premio speciale del Presidente della Repubblica. Viviamo di cultura, di iniziative, di eventi grandi e piccoli che hanno nella cultura un filo conduttore fondamentale. Napoli è protagonista, il Teatro San Carlo, un motivo di orgoglio e di vanto per noi, per la nostra città, per i napoletani.